buongiorno sono giovanni neri e siamo in località 9 di modena in un frutteto tiviglia e di con una superficie di quattro ettari l'annata non è andata molto bene però rispetto a tanti miei amici insomma siamo riusciti a consegnare ancora qualcosa ho usato islamin n90 per aiutare le piante di pero a superare le temperature estive in modo sostenibile per l'ambiente e per il consumatore finale sono state effettuate tre applicazioni fogliari con islamin n90 la prima dopo la legazione dei frutticini e le altre due durante l'aggressimento dei frutticini i risultati evidenziano un equilibrato sviluppo vegetativo un colore verde intenso delle foglie le foglie sono diventate vigorose turgide e un buon sviluppo dei frutticini anche in presenza di elevate temperature estive le differenze tra trattato e non trattato erano evidenti le piante trattate erano vigorose frutti di buon calibro sono contro emiliano il tecnico dell'azienda neri ho consigliato di utilizzare islamin n90 un prodotto che deriva da idroirisi enzimatica quindi è un prodotto ricco di amminoacidi levogiri l'islamin n90 è un prodotto autorizzato nel disciplinare biologico un prodotto quindi che non lascia residui è un prodotto che grazie alla sua azione biostimolante ha consentito alla pianta di passare in maniera diciamo ottimale lo stress delle calure estive abbiamo notato una riduzione quasi una scomparsa delle delle foglie brunite annerite dalla caldura stiva abbiamo notato una riduzione importante della cascola e una omogenizzazione di quello che sono stati i calibri di tutti i frutticini che abbiamo ottenuto grazie a tutti Grazie a tutti.